Il Veneto, rispetto alle altre regioni italiane per quanto riguarda i rifiuti, si assesta in cima con una graduatoria del 75,9% di differenziata. Un risultato eccezionale che dimostra come ci sia un grande lavoro e una grande attenzione della regione per la salvaguardia del territorio. Sono le parole di soddisfazione del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Da tempo la regione ha conquistato il titolo di regione riciclona, riconosciuto oggi dall'undicesimo rapporto ANCI-CONAI con i dati del 2020, in periodo di piena pandemia. A riguardo è intervenuto anche l'assessore all'ambiente Bottacini, il quale ha affermato come ormai da anni il Veneto si consolida al primo posto nella raccolta differenziata, al primo posto in Italia e tra i primissimi posti in Europa. Il percorso virtuoso viene consolidato dal fatto che abbiamo appena approvato come regione Veneto l'aggiornamento del piano rifiuti che prevede la dismissione delle discariche entro il 2030 e un ulteriore incremento della raccolta differenziata. Un modello, ha ribadito l'assessore, per molte altre realtà, come certificano anche realtà terze, quali lega ambiente, che ha portato la regione a ricevere il plauso del Ministero della Transizione Ecologica per il metodo di aggiornamento adottato, che ha visto un'altissima concertazione con il territorio. E conclude Zaia, da tempo in Veneto abbiamo cominciato a concentrare la nostra attenzione sulla possibilità di riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti, con l'obiettivo di trasformare in risorsa quel che normalmente viene semplicemente buttato. Grazie a tutti! Grazie a tutti!